buongiorno a tutti ragazzi e ragazze benvenuti oggi prepariamo le treccine alla ricotta sono un dolce veramente speciale molto leggero in cui non ci sono le uova e non c'è neanche il burro sono a metà tra brioche e biscotti e sono fantastiche ci occorrono 350 g di ricotta meglio se di pecora perché più saporita 250 g di farina 230 g di zucchero potete anche scegliere zucchero integrale 8 g di lievito in polvere un pizzico di sale scorza di limone è opzionale se non avete in tolleranza un uovo sbattuto per lucidare la superficie quindi sono veramente ingredienti facilmente reperibili che tutti quanti abbiamo nella nostra cucina e soprattutto ci vuole pochissimo tempo per realizzarli basterà impastare a mano tutti quanti gli ingredienti tranne ovviamente l'uovo che ci servirà soltanto alla fine per lucidare la superficie dei biscotti l'uovo che ci vediamo l'uovo che ci vediamo l'uovo che ci vediamo l'uovo che ci vediamo a questo punto ci muniamo di una bilancia da cucina dobbiamo ricavare delle palline da 60 g circa se non avete una bilancia cercate di farlo un pochino ad occhio spolverizziamo con un goccino di farina e a questo punto possiamo ricavarci un filoncino in questo modo e semplicemente lo andiamo ad intrecciare procediamo così per tutti i nostri pezzetti di impasto in questo punto 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 disponiamo quindi su una teglia foderata con carta da forno se non siete intolleranti all'uovo lo spennelliamo sulla superficie abbondantemente dopodiché spolverizziamo lo zucchero semolato quando dovete spolverizzare con lo zucchero semolato ricordate di non fare di non spennellare troppi biscotti per volta perché poi ovviamente l'uovo tende ad asciugare quindi facciamo 3-4 biscotti spostiamo l'uovo e spolverizziamo con lo zucchero semolato volendo potete utilizzare anche lo zucchero integrale di canna in questo modo lo zucchero si attaccherà bene sulla superficie inforniamo a 170 gradi per circa 20 minuti ed eccole qua le nostre treccine alla ricotta sono pronte per essere gustate possono essere mangiate così calde oppure fredde addirittura possiamo anche congelarle tirarle fuori la sera prima e mangiarle la mattina per colazione se questo video vi è piaciuto mi raccomando ricordate di sostenere il mio canale con un like con un commento se non siete iscritti iscrivetevi e condividete questo video con tutti i vostri amici bene io vi mando un bacione ci vediamo presto nella prossima video ricetta ma prima vi lascio qualche immagine relativa ai video precedenti che ho già postato e che quindi trovate nella mia sezione video se ve li siete persi magari andate a fare un salto anche lì ciao e a presto ciao 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 ciao